Intanto guardiamo un po'. Buongiorno a tutti, grazie Claudio per questo invito. Come anticipato parlerò del Canale Nerino. Il Canale Nerino essendo stato in funzione fino al 1950 è oggi qualcosa che ormai purtroppo pochi conoscono ma che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo industriale della nostra città. Questa è una barca inaugurale, tra l'altro non si sa che fine abbia fatta purtroppo, dove però viene riportato da molto importante il costo di costruzione del canale che ammontava circa 200 mila lire dell'epoca. Oggi questo importo ricapitalizzato corrisponderebbe a circa 880 mila euro. Quindi pensate che investimento fece il comune di Terni in quegli anni, anni in cui veniva realizzato anche il corso d'acido. Quindi la città, anzi Terni, assumeva il volto di una città perché non c'era neanche il corso principale. Ecco, dove si trovava l'inizio del canale Nerino? L'inizio del canale Nerino si trova nella zona di Vendima, dove tutti conoscevano molto bene. e questa fotografia cartolina per meglio delle altre rocca ci dà la possibilità di covalere veramente quello che era l'inizio del canale. Quindi dove la ripresa, la digomobile, la casa di guardia e l'inizio del canale vero e proprio. Quindi lì partiva il canale Nerino. Come si vede sullo sfondo le acciaierie, come si vedevano chiaramente in quell'epoca. Questo era il Ponte Viga, che ancora oggi esiste, che faceva appunto dal Parlamento e lì c'è la roba di gattazione. La fotografia è di circa del 1930. Vedete le fotografie a colori, chiaramente non erano a colori ma è possibile, e ci sono dei soldi soft, bisogna padroneggiare, grazie ai quali è possibile colorarle e in qualche modo attualizzarle che assumono un fascino diverso. Questo è sempre il Ponte Viga visto da un'altra angolazione in una fotografia del genio civile di Derni. La portata iniziale era di 22 metri cubi, poi nel 1904 fu portata a 35 metri cubi. Questo è proprio il tratto del canale, parallelo alla strada sotto la collina di Pentima. Come vedete non c'era la cifra, non c'era nulla assolutamente, solo la rosina. Dopo circa, dopo poche centinaia di metri, fu realizzato uno scarico, qui si vede benissimo, in grado di sbattire 20 metri cubi di acqua. La domenica il canale mi ha messo in asciutta, come sapete, che per lo meno di Derni sa che il velino trasporta molte sostanze in sospensione, molte chiaie, quindi la domenica le aziende non potevano lavorare, venivano fatte tutte le operazioni di pulitura delle chiaie. Questa è un'altra bella fotografia, si vede il bacino di arrivo che distribuiva le acque e poi le aziende che utilizzavano il canale, tutto dove era energia, tra le quali hanno venuto l'utificio Centodini e la fabbrica d'armi. Qui dove oggi c'è tutta l'area ex Derni, ma comunque anche speciali Derni, c'erano le fornaci in cui venivano costruiti i refrattari per le acciaierie. Ecco, qui si vede molto bene il bacino di distribuzione, una delle due centrali elettriche dell'utificio Centurini, questi cavannoni sono quelli dell'utificio Centurini, ormai non esiste più perché è stato demolito a metà degli anni 90 per far posto a nulla, abbiamo preso anche quello, e qui c'è poi la fabbrica d'armi e si vede anche parte dello stadio di Viale Prim, anche quello ormai purtroppo mi rimane. La fotografia è del 1918. Qui invece abbiamo una vista molto radicinata del bacino partitore. Il bacino partitore come dice il nome aveva il compito di smistare l'acqua verso le varie aziende, verso le varie utenze. Quindi da lì partivano tutta una serie di canali. qual'era la potenzialità del canale? Il canale era dimensionato per 40 metri cubi d'acqua, che considerato come stato costruito non erano certo pochi. Veniva sfruttato per 35 metri cubi e queste erano le aziende che lo utilizzavano. Quindi la fabbrica d'armi di Perni, la fonderia Rubovic, che non esiste più, si trovava nei pressi della stazione ed è stata completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale. La centrale di San Martino, che si trovava dietro a quelle logiche che è il Residenze Pizzoni, che all'epoca era una quale gnameria molto affermata a livello nazionale. L'odificio Centurini aveva due centrali idroelettriche. Aveva anche il pianificio Gruber, del quale purtroppo rimane molto poco perché anche esso è stato distrutto per il 60% durante la seconda guerra mondiale. Poi c'è stata costruita la nuova questura e quindi capire che si è quello che rimane. Ma quello che rimane è molto importante. E poi c'è la cosiddetta centrale Erligon, che è stata una delle prime centrali idroelettriche d'Italia. E Terni è stata una delle prime città ad avere l'illuminazione pubblica nelle strade. Quindi è quasi un primato. Dopo Milano, che tra l'altro utilizzava il caccone, non ci dimentichiamo che a Terni anche le acciaierie utilizzavano l'acqua. Tutta l'Europa andava a caccone, non utilizzavano l'acqua. Questo era un primato. Tutte le industrie in qualche modo utilizzavano energie rinnovabili. Le potenze, come vedete, non sono chiaramente elevatissime, ma vanno sempre commisurate con i tempi. ecco, oggi potrebbero, vanno quasi sorridere. Diciamo, siamo quasi nel campo, non dico del mini idroelettrico, ma un pochino in su. Questo è un bellissimo disegno dell'Europa. si vede benissimo lo sviluppo del canale, il bacino, il bacchitore e poi, con una precisione e disegni tipica dell'Europa, le varie ramificazioni con tanto di metri cubi spettanti riportati. Questa è una planimetria tratta dal libro di Guido Bergri, che era ingegnere del Consorzio di Bonifica. ha scritto un'opera fondamentale, dedicata appunto alle acque di Terni, che è fondamentale per chiunque voglia studiare le acque. E' un libro dal quale non si può procedere. E qui si vede che non torna meglio le varie centrali. La fabbrica d'Armi, il lanificio, questa qui in fondo è la centrale Erligona. con tutti i buoni canali di scarico, Bergri era di una precisione e di un dettaglio eccezionale. Questa bellissima fotografia della centrale esterna dell'edificio Centorini con il suo spioratore. Di questo impianto rimane solo duro perimetrale, chiaramente non esiste più nulla. E questa invece è la fabbrica d'Armi. Se oggi noi andassimo in questo posto vedremmo esattamente la stessa immagine. E' l'unica azienda che è rimasta ancora attiva ed è l'unico ramo del canale Nerino ancora oggi funzionante. Chiaramente l'acqua non viene più derivata come in passato, ma viene captata dallo scarico della centrale del Celsimone, che è un piccolo gruppo elettrico realizzato negli anni 90 all'interno della centrale di Cervara. La fabbrica d'Armi usa duecento litri d'acqua perché ancora ne ha bisogno. Ma ripeto, è l'unico tratto ancora in grida. Tra l'altro quando è stata costitata la fabbrica d'Armi non c'era ancora una vera e propria centrale elettrica. c'erano delle paratorie, qui fortunatamente si vede benissimo, che alimentavano direttamente per caduta queste turbine benedire. Poi la fabbrica d'Armi si è aiutata di una centrale elettrica in cui vediamo la sala macchine, distrutta anche essa durante la seconda guerra mondiale e non più ricostruita. La centrale, per farvi capire dove si trovava la prima centrale elettrica di Derni, vedete, riconoscerete senz'altro, questo è il viare Campo Fredoso dove c'è questo muro, oltre ad esserci una zona ricca di mulini, qui c'era anche la prima centrale elettrica di Derni. Poi quest'area è stata destinata ad un sopitativo, quindi si è totalmente perso traccia di tutto. Questo era l'interno della prima centrale elettrica di Derni ed è una, e questa è una cartolina alterocca del 1900. Sono proprio dei gruppi elettrici primitivi a Ciglia, quindi che davano tantissimi problemi, necessitavano di una manutenzione non giornaliera, al minuto proprio. Andavano ingrassati a mano, insomma, si è andate a leggere alcuni, oggi noi chiamiamo report, insomma, ha resoconti di manutenzione dell'euro, qualche cosa di affascinante, che sembra impossibile, oppure curavano ogni istante la vita di questi macchinari. Questa è una foto aerea dell'elettrica, guardate le dimensioni dell'anificio Gruber, questi capannoni a shed, costruiti secondo il modello inglese, non esiste più nulla. La parte che è, diciamo, conservata è questa qui, e c'era il canale di Derni finiva qui, cioè un bastione che ancora oggi esiste, poi alimentava la centrale dell'edificio e la centrale dell'edificio, come vedete, questo è l'area Capo Fregoso, si trovava esattamente qui. La fonderia, come ci abbiamo già parlato, si trovava nei pressi della stazione ferroviare, cosa visibile da questa planimeria, e considerate che la costruzione di questo ramo, che aveva un discreto sviluppo chilometrico, costò quanto lo stesso canale di Derni, quindi una cifra importante. E questa derivazione praticamente attraversava quasi tutta la città, perché passava nei pressi della camera di convergio, tanto per rendervi l'idea. Poi fu, durante il ventennio fascista, molti canali furono ricoperti, quindi fu, sono fatte delle gallerie, in realtà, quindi poi anche aveva un discorso proprio igienico, tra l'altro. Ecco, la centrale di San Martino, dove tutti noi andiamo a passeggiare, a passeggiare nei pressi del parco pubblico, si trovava esattamente dietro alla faregnameria a Pizioni, che oggi è un affermato residence, esattamente di dietro. ed era gestita dagli acciaieriche. Cosa rimane oggi di quest'opera straordinaria? Rimane la liga, la liga mobile, la liga a cavalletti, quindi la parte sottostante si apriva o chiudeva in base alle esigenze. Ecco, quando era aperta chiaramente faceva defluire le acque. Quindi, qui si vede chiaramente il canale iniziava esattamente qui. Cioè, alcuni anni fa, molte opere, c'era il bacino di gamma, ancora erano conservate, e poi, per effettuare dei lavori alla rete metanifera, è stata creata una strada che un bacino di gamma non esiste più. È andato per tutto. Il canale iniziava esattamente qui, quello che oggi ancora rimane. Questo è lo scarico all'interno del torrente Serra, quindi in cui tutta l'acqua del canale Nerino finiva qui, dall'anificio direttamente qui. E questa è l'ultima paragonia del canale Nerino, a cui si trova all'interno dell'anificio Gruber che smistava l'acqua alle ultime due centrali. Interessante e praticamente disconosciuto, questo ponte canale in metallo che si trova sul torrente Serra che consentiva appunto di stavarcare questo corso d'acqua per poi portare l'acqua alla fronteria Lubovic e alla centrale San Martino. Ora, considerata l'importanza storica del canale Nerino, la associazione in cui faccio parte, il Centro Studi Malfatti, nel 2013 ha formulato una proposta per la realizzazione di un parco del canale Nerino, prevedendo la ristrutturazione per lo meno di un immobile da destinare a conservatoria degli archivi industriali della nostra città. Non so se lo sapete, ma gli archivi sono frammentati in varie sedi. Alcuni si trovano anche fuori termini. Pensiamo a quello del genio civile, che tra l'altro è di assoluto rilevo, che si trova a Solomeo, se non è stato poi tra l'altro in seguito spostato. Un'altra parte di archivio si trova presso l'ARPA, cioè l'Ast, per meglio dire, ha riacquisito una parte del suo archivio che è stata per circa trent'anni conservata presso l'archivio di Stato, e ci sono tutti spazi qua e là. Ci sembrava interessante magari poter destinare l'immobile alla conservazione di questi archivi. E dal momento che si parla del Museo delle Armi, con quattro o cinque inaugurazioni fintizie che sono state fatte nel corso degli anni, della ciclo peronale che dovrebbe appunto costeggiare il Flume Nera, e del fatto che ci si potrebbe creare un'asse molto interessante, creare un parco e un museo e una conservatoria degli archivi, lì ci sembrava un'idea molto interessante. Se non che pare che quest'area venga destinata al sociale. Ora, nulla contro il sociale ci mancherebbe, ma visto che in città ci sono molti immobili posti in vendita da, possiamo dire ormai decenni, e che probabilmente non verranno mai venduti, quindi magari potrebbero essere usati per il sociale, e visto che quest'area ha una peculiarità così interessante, per una volta tanto fare un'operazione di recupero della nostra storia. Ecco, questa è una delle ultime occasioni che ci rimangono. Ausbigerei che non si segue allo stesso cliché che è stato seguito per la serie. insomma, le cose sono andate in modo ben diverso. Ecco, tutta questa storia mi sono divertito a raccontarla alcuni anni fa nel mio libro L'acqua motore dell'industria. e quando l'occasione, dal momento che, con mia grande soddisfazione, il libro è saudito, perché sono state vendute tutte le coppie, ho pensato bene di realizzare le book che ho lanciato in questi giorni. Quindi, chi fosse interessato, potrà approfondire la storia del canale Nerino, e non solo su un grazie alle book. Mi ringrazio per l'attenzione. Applausi